Un buon pomeriggio a tutti quanti voi che sempre ci seguite da casa e benvenuti sul nostro canale G-Science TV, il canale di informazione e divulgazione del Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto dell'Università degli Studi di Padova. Quest'oggi vogliamo parlarvi di un nuovo tema, uno dei nostri temi di ricerca perseguiti dai nostri gruppi di ricerca affiliati al Master e sto parlando del tema dell'agroecologia e dei servizi ecosistemici correlati proprio agli agroecosistemi. Avremo con noi uno dei più grandi esperti sul piano internazionale, il professor Tomas Enrique Leon Sicard. Leon Sicard ha sviluppato un indice atto a caratterizzare, a valutare e comprendere gli agroecosistemi secondo approcci naturalistici ed ecosistemici che guardano non solo alla transizione agroecologica delle culture ma quindi anche ad una valorizzazione paesaggistica delle stesse. Scopriamo quindi insieme l'indice MAS del professor Leon Sicard, ossia l'indice Main Agroecological Structure e come sempre andando noi a trattare come team di ricerca gli strumenti della G-Science invitiamo tutti quanti voi ad applicare queste nozioni e conoscenze sui sistemi informativi geografici e a fare quindi le vostre valutazioni sugli agroecosistemi secondo questo indice. Ascoltiamo quindi insieme il webinar Struttura Agroecologica Principale Integrazioni tra Pratiche Agricole ed Ecologia del Paisaggio Come sempre vi ringraziamo per seguirci in ogni nostro contenuto e vi invitiamo a fare subscribe qui in basso a destra per restare sempre aggiornati su ogni nostra iniziativa. Una buona giornata a tutti quanti voi! Buongiorno a tutti! Innanzitutto vorrei ringraziare il professore Massimo Di Marchi per l'invito a condividere con voi questo concetto che nasce dal lavoro del mio gruppo di ricerca in studi agrari e ambientali dell'Istituto di Studi Ambientali dell'Università Nazionale della Colombia. La mia presentazione si intitola Agroecologia e Ambiente la struttura agroecologica principale degli agroecosistemi maggiori e l'ho divisa in tre parti. Nella prima esporrò brevemente quello che si intende nel mio istituto per dimensioni ambientali. nella prima parte. Nella seconda parte io parlerò anche brevemente di alcuni aspetti chiavi dell'agroecologia che mi aiuteranno a presentare il concetto di struttura agroecologica principale nella terza parte. Mi scuso, io sono leggendo un po', mi scuso in anticipo per il mio pessimo uso della lingua italiana. Non parlo l'italiano ma mischerò parte in italiano con parte in spagnolo e parlerò lentamente possibile per facilitare la comprensione a tutti voi. Di tanto in tanto sentirai un galo cantare in lontananza perché in questo momento sono in una casa alla campagna. Iniziamo, iniziamo. Primero, la prima parte. Qual è la dimensione ambientale? Per rispondere a questa domanda ci affidiamo alla proposta teorica del professor Augusto Angel Maya. Augusto Angel Maya. È forse il più importante teorico ambientale dell'America Latina. ma è poco conosciuto perché non ha mai pubblicato i suoi lavori in inglese. Era un sacerdote gesuita, teologo e dottore in storia. morto nel 2010. Ha vissuto e studiato a lungo a Roma. Augusto sottolinea Sottolinea che gli ecologisti hanno svelato come funziona la natura in termini di flussi di energia che attraversano le catene alimentari e che organizzano la vita. In questi lavori, durante più di 200 anni, gli ecologisti hanno creato e svipolato molti concetti come sucessioni di piante, cicli nutritivi, relazioni tra e all'interno delle specie. è un concetto chiave, la nicchia. E la nicchia come le funzioni regolate, svolte da tutti gli organismi all'interno della catena dell'ecosistema. Ad esempio, gli erbivori responsabili dell'intrappolamento dell'energia sono regolati dal tipo di suolo, dal clima. A loro volta, i carnivori che distribuiscono la biomassa sono regolati dal numero di erbivori come prete. tutti sono regolati, tutti sono regolati. E la domanda di Augusto è gli esseri umani occupano o exercitano una nicchia all'interno degli ecosistemi? E la risposta del professor è no. No, non occupiamo una nicchia specifica all'interno dell'ordine naturale, anche se in ogni momento stiamo interagendo con gli ecosistemi. Noi siamo natura, ma non siamo ecosistema. Per spingiare la risposta, accettiamo che a un certo punto facevamo parte della catena naturale e che poco a poco, poco a poco, siamo separati da quella catena fino a formare qualcosa di diverso. Per capire questo, ci appelliamo alla teoria dell'evoluzione darwiniana, che ha molti concepti, la diversità nei discendenti, la selezione naturale, la sopravvivenza del più forte, i combatti per l'assistenza, eccetera, eccetera, il gradualismo filettico. E con la modernità, non parliamo dell'azard, casuale, della deriva genetica e dell'equilibrio discontinuo. Però, lo interessante è l'applicazione della teoria della evoluzione applicato agliessere umane, agliessere umane. E, quindi, accettiamo che stavamo dentro del ordenamento natural e, poco a poco, ci fuimos separando, ci fuimos separando e ci fuimos separando. teoriche, diverse scuole, o vari discorsi per rispettare la evoluzione humana, la scuola della famiglia Licky, che accettano diopitecus, ramapitecus, Tim White, Anlie Berger, e Arzuaga y Martínez, che hanno altri discursi diferentes, che parlano di primati, di platirrinos, ascolti il galo, proconsul, afropitecus, e, in fin, hasta che hai un voto fossile, ah, però, dopo, hai una, una storia evolutiva, umana, accettada per molti scuoli, hasta llegar a Homo sapiens sapiens. e la cosa interessante di queste teorie è che ammettono che alla fine guidati da processi adattativi, gli esseri umani hanno ottenuto cinque grandi conquiste biologiche, la posizione eretta, la mano articolata, o, il linguaggio, la visione stereoscopica, e il neonsefalo. e Augusto e diversi antropologi spieggiano che a partire da queste conquiste biologiche, gli esseri umani costruiscono tre grandi processi, ah, per separarsi dell'evoluzione biologica interrelazionati. la costruzione di simboli di organizazioni e tecnologia. Simboli, organizazioni e tecnologia. E simboli, in molti simboli hai, per esempio, miti, la cienza, che è la più importante struttura simbolica, il diritto, la filosofia, l'arte, l'histoire, tutti sono processi simbolici, formas di pensare la natura, però anche abbiamo una organizazione social, economica, politica e militare, la organizazione humana diferente a cualquier otra organizazione dei esseri viventi. E abbiamo la tecnologia, strumenti, macchini, attresature, sistemi. Tutto questo può essere più detallato, per esempio, nel mondo simbolici apparece l'ideologia, il potere, documenti, norme, accordi, tutto è più complesso, più complesso, trattati, costumi, pubblicazioni, la religione, teorie, patrono, idee, e poi parlare rapidamente premesse etica, estetico, asiologia, classi sociali, caste, salute, autorità, gerarchie, commercio, denaro, trasporto, mercati intermediari, sindacati, migrazione, genere, eccetera, eccetera, materie prime, rifiuto, cicli, armi, dottrina militare, tasse, educazione, punizione, e tutto questo, tutto questo complesso è la cultura, cultura, e noi intendiamo la cultura come un sistema parabiologico di adaptamento e trasformazione degli ecosistemi fatti di esseri umani. Va bene. Tutta l'azione, il pensamento e l'azione umana è la cultura, la cultura. e è con la cultura con la che Augusto propone dunque questa bellissima frase, la cultura come emergenza evolutiva della natura. e la risposta alla domanda di Augusto è la nicchia della umanità e la trasformazione culturale degli ecosistemi come con 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 l'organizzazione economica sociali politica militare e la tecnologia. Tutto interrelacionato, tutto molto interrelacionato. E quindi studiamo queste relazioni da un punto di vista complesso. a condizioni di comprendere interrelazioni. Grandi interrelazioni come può essere lo primero la estrazione excuse me estrazione di bene naturali che è la manera in cui la società utilizza los 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 productos de di bosco inizialmente però o actualmente il petrole per esempio la agricoltura che è la aczione cultural sobre los productores primarios sobre pianti la il allevamento di vestiame che è la aczione humana sobre los herbivoros la industria che è la aczione humana complica sobre los minerali los yacimientos minerali etc. però interessante saber che studiiamo la salida della relazione ecosistema cultura relazioni ecosistema cultura come processi ecologici sociali economici politici flussi energetici cicli materiali però con interaccioni interaccioni che sono culturali però o també ecosistémica l'inquinamento l'erosione la biodiversità tutto se puede estudiar desde el punto de vista ambiental entendiendo que son salidas de las relaciones ecosistema y cultura o sociedad resto de la naturaleza sociedad naturaleza prima parte seconda parte la dimensione ambiental nella agricoltura e la agricoltura la agricoltura también è un processo ambiental complejo complejo comprende tutti i processi ecologici tutti i processi ecologici però l'agrònomos convenzionali erano durante molti anni studiando per aca solamente risorse natural dimenticato la estructura simbólica la forma di pensare la scienza moderna la biotecnologia per esempio la conoscenza popular la historia del diritto la propietà de la terra las formas de entender el sviluppo però també deve incluir l'agricoltura l'estudio social e politico della estructura agraria della popolazione della politica del Stato però també mercati prezi comerci reddito e los asuntos tecnologici mecanizzazione irrigazione la quimica l'agricoltura dal punto di vista ambientale è due ordini l'ordine dell'ecosistema di piante cultivate biodiversità flussi d'energia ma anche l'ordine culturale l'ordine culturale che se une in sistemat socioecologico e un sistema agroecològico è l'agroecosistema l'agroecosistema che noi pensiamo che può essere un agroecosistema minor la cultivazione los cultivos l'agroecosistema mayor voy a espiare un po' o ma adelante la matrice di agroecosistema in la regione l'agricoltura contra la fame aumenta la produzione la eficienza economica va bene però anche con una revisione ambientale di questo modello di revoluzione verde con efecti negativi dependenza di imprese transnazionali e di diferentes paradigmas scientifiche no e questa diapositiva è molto importante perché guarda il terreno è nudo cosa che non dovrebbe accadere ai tropici ha appena piovuto e l'erosione ha trascinato il terreno sulla strada guarda i due laboratori che fanno sicuramente parte della popolazione povera esclusa e guarda l'albero solitario sullo fondo questa è una diapositiva che rappresenta una critica alla rivoluzione verde una critica alla rivoluzione verde la rivoluzione verde originò insodifazione insodifazione con il modelo di rivoluzione verde per effetti diversi su salute umana e non umana contaminazione dell'acqua del suolo perdite di biodiversità però anche orientamenti lineari della scienza scarsa valutazione della conoscenza centrale ingiustizia regolamenti ignoranza dell'esternalità economica accumulazione di capitale nella società transnanzionale esclusione sociale polarizzazione della società povertà dependenza e valutazione parziale degli effetti ambientali impliciti nella applicazione della conoscenza specialistica e por questa razone emerge l'agroecologia emergenza dell'agroecologia dell'insatisfazione a un nuovo modelo cultural e científico ma l'agroecologia la parola l'agroecologia ha almeno 4 1 2 4 differenti significati primero primo è un movimento sociale e politico molto forte in Brasil e molto forte in Cuba meno forte in Colombia però è un sistema di agricoltura si confunde la parola agroecologia con sistema di agricoltura con movimento social e è una cienza la cienza di agroecosistema però abbiamo proposto che l'agroecologia è un tesuti di simboli tesuti di simboli di valori respeto solidarietà formas di habita la tierra etica valori amor perché no il amor deve entrare nelle discussioni dell'academia verrà esiste l'agroecologia ha iniziato a essere importante solo dagli anni 80 anni 80 del secolo scorso quando sono apparse e aumentate pubblicazioni specializzate qui questa diapositiva mostra solo le pubblicazioni fatte in inglese in inglese e che non vengono mostrati contributi di accademici contadini o messicani colombiani peruviani non italiani qui tampoco tampoco italiani solamente pubblicazioni in inglese e però le prime tentative di sistematizzare questa nuova scienza sono venuti dagli studi di Robert Hart nel Cattie in Costa Rica che ha proposto un'interessante definizione di agroecosistema dal punto di vista di la teoria del sistemi tutta il professor Hart non considerava la hacienda agrícola come un'agroecosistema il agroecosistema era era la los cultivos dentro de la hacienda agrícola e la actività humana era era muy limitata il análisis de la humana limitata pero nosotros sabemos que hay multipliche de interrelaciones en el campo de cultivo guarda esta diapositiva y hay muchas relaciones múltiples relaciones relaciones ecosistémicas la erosión la erosión la dimensión social con la composición de la familia transporte potere educación la dimensión económica mercati crédito en en fin la dimensión biofísica cultivo suoli agrobiodiversità conocencias maquinaria muchas relaciones multiplicidad de interrelaciones debemos riconoscere la complicità degli agroecosistemi e allora nos tenemos una definizione que es un agroecosistema un agroecosistema que es el insieme de relaciones e interacciones que se verifican tra suoli clima piante cultivante herbace organismos de diversos niveles troficos e grupos umanos en determinados espacios físicos e geográficos pero cuando vengono avvicinados del punto de vista de los flujos energéticos e informativos de los ciclos materiales la ecología la visión ecología y la dimensión cultural de las relaciones simbolicas sociales económicas y políticas que se esprimono en diversas formas tecnológicas de gestión all'interno de contextos culturales específicos esta es una definición de agroecosistema complejo complejo y esta es una definición ambiental de la agroecología como como la ciencia que estudia la estructura y la funciones de agroecosistemas dal punto de vista de loro interrelaciones ecologicas cultural es decir ambiental complesso entonces la agroecología es al centro del bivatito epistemológico ¿por qué? porque hay muchos especialistas isolados aislados climatólogos cada uno en su en su círculo epistemológico la pitopatología a un lado la 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 ecología al otro lado la 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 lología diferente no hablan entre sí la fisiología los tampoco los tecnistas no hablan con los con los del desarrollo rural en fin entonces la agroecología include la esponda cultural es decir la esponda cultural y afronta la complicidad del agroecosistema La complicità ambientale. La complicità di che il suolo è la base della vita, è il teatro della vita, è la base della agroecologia e della agricoltura, però la agroecologia studia l'uso di materiale organica, l'uso continuo di materiale organici, però anche la raccolta dell'acqua. Ma anche la policoltura, la decina centinaia di racolti miglaya di piante. Queste sono le diapositiva della Colombia, le zone agricole di Colombia. L'adattamento del terreno. Se fa con differenti materiali, come con l'ingenio popular, che utilizza distinti materiali per l'adattamento del terreno. Il lavoro comunitario, questa è una zona freda, in Colombia, di campesinos, molto popular. E anche la copertura del suolo, con distinti formi di cobertura. E qui abbiamo la utilizzazione dei rastroi. Lui a leggere, dice qui David Díaz, L'impoverimento della ricchezza floristica va di pari passo con l'impoverimento della quantità e complessità dei rapporti ecologici. Quindi, sappiamo che i sistemi radicali in colture semestrali a libera posizione sono piccoli, 10 cm. Però il sistema di radice in area in colture sono più grande, più grande, 50 cm, 40, 30 cm. E questo permette il riciclazione di nutrienti che si toman in profondità e quando le piante, 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 depositano i nutrienti in superficie. E sono un factor molto importante per la luce contro il cambiamento climatico. Però anche i siti di descanso in le piante, presentano diverse quantità di biodiversità. Per esempio, le colture all'area aperta hanno molti individui di insetti di pochi gruppi tassonomici. E le stoppie hanno pochi insetti da molti gruppi tassonomici. Va bene. L'agroecologia consente la comprensione e la gestione della agrobiodiversità a diverse scale. Diversi di scala. E questa è una finca con molti cultivi e flore di diversi livelli in la sabana di Bogotà, di la Colombia. E in scala diversi, per esempio, la agrobiodiversità gestita a la scala degli allevamenti animali. E questa è una proposta di Enrique Murguitio in gli sistemi silvopastorili agroecologici. Molto interessante, guarda il animale all'interno di la pradera, all'interno con distintos estratos di vegetazione. Questo sistema agro-silvopastorili muestra buoni risultati. Prima edopo il miglioramento del suolo del sistema silvatorio intensivo, prima edopo, con molti buoni dati di produzione di carne, di lette, di bienestar di animali. E guarda la diapositiva, perché questi sono extremi de grado, tierra con extremi de grado, e questa terra tiene un sistema silvopastorili dopo catremesi della semina. In il valle del fiume Cesar è una zona deserciata avanzata della Colombia. Quindi, la agroecologia impulsa i cambiamenti del paisaggio hacia più diversità. Entre più diversità, maggiori interrelazioni, maggior produzione, maggior resilienza, maggior resistenza al cambiamento climatico. E quindi la agroecologia propone una investigazione, una ricerca delle basi scientifiche, della agroecologia, che è una scienza nuova. In quest' Stiamo mettendo i fondamenti, le basi della ciencia. Abbiamo a guardare qualcosa di questa scuola di le basi scientifiche. Perché il agroecosistema è già, o detto, è complesso. Perché c'è un paese culturale e costruito. E quali sono le caratteristiche naturali dei agroecosistemi. Perché in questi momenti abbiamo classificazioni utilitaristiche, interpretative o praticiche, però non abbiamo classificazione naturali dei agroecosistemi. No, non abbiamo. Quindi, necessitiamo sapere quali sono le caratteristiche di questi agroecosistemi. Ci sono molti classificazioni praticiche, ma non classificazioni di taxonomia degli agroecosistemi. No, abbiamo molti classificazioni di agroecosistemi ecologici, organici, intensivi, transitori, di campesini, di leche, però non abbiamo la classificazione di agroecosistemi. Quindi, quali sono le qualità o le caratteristiche naturali dei agroecosistemi? Come si esprimono se si fossero? Come inserirli in un sistema taxonomico? Buonas domandas. Quali sono le caratteristiche degli agroecosistemi? Condizioni climatiche, condizioni di suolo, sollievo, condizioni geografiche, regime di proprietà della terra, tipo di produzione, sistema di gestione, tipo di produttore molto complesso. Dimensioni del agroecosistemi, la forma del agroecosistemi. Cada una di queste caratteristiche necessitano studiarsi e profundizzarsi. Però hai una, che è questa, che è la estructura agroecològica principale. La estructura è una caratteristica di agroecosistemi. E il nostro lavoro è qui, in la SAP. Un incontro di diversi scienze nel paesaggio. Perché i paesi sono studiati per i ecologi del paesaggio, o per i biologi della conservazione. Poco per i agroecologi, molto poco. Abbiamo, quindi, un incontro tra il pensiero ambientale, la ecologia del paesaggio e la agroecologia. E torniamo un momento alla definizione di agroecosistema. E con questa definizione, noi facciamo una domanda. Allora, a la fine, l'agroecosistema è la fattoria, la hacienda agrícola, o è il raccolto. Perché con questa definizione, la definizione anterior, possiamo dire che questo è un cultivo di caia, di azucar in Colombia, e è un agroecosistema. Sì, signor, è un agroecosistema. Però questo di café, cultivo di café, anche è un agroecosistema. E qui al final, al fondo, c'è una pradera, che anche è un agroecosistema. Però tutto questo è una fattoria, è una hacienda agrícola. Quindi, proponiamo considerare che sono gli agroecosistemi minori, siti di coltivazione, prati, siti agroforestali. Tutto questo sono agroecosistemi minori. E la hacienda agrícola è un agroecosistema maggiore, è semplice, facile. E nel paesaggio possiamo studiare la matrice del agroecosistema. La, agregados di agroecosistema, conjunti, gruppi di agroecosistema, in una regione o in un paese, una nazione, desde il punto di vista ambientale complejo. Questo è un esempio di due agroecosistemi maggiore, due fattoria in la sabana di Bogotà, che hanno agroecosistemi minori, però anche un humedale, hanno un ecosistema. Allora, all'interno di agroecosistemi, ci sono ecosistemi, ci sono ecosistemi. E quindi possiamo cominciare a leggere il paesaggio di altra maniera. In questa diapositiva, ci sono diversi tipi di agroecosistemi maggiori e minori in una matrice agricola della sabana di Bogotà. quindi ogni serra è un agroecosistema minore. Però questa fattoria è differente a questa altra e a questa altra. Questa è una fattoria solamente con agroecosistemi minori e questa altra fattoria è un agroecosistema di agroecosistemi e ecosistemi. Questa è una fattoria del ramal, osea, fattoria del ramal, esempio ficticio di un ecosistema in la floresta pluviale tropicale all'interno di un agroecosistema maggiore. Questa è la misma diapositiva, però l'ecosistema è accanto a un agroecosistema maggiore e qui è lontano, lontano è lontano il ecosistema di la finca. E questo ha diversi implicazioni nel manejo di la finca, di la fattoria, di la hacienda agricola. Perché è differente con la ecologia del paisaggio. lo ecologo del paisaggio studiano la composizione, la struttura, la funzionalità, il cambiamento, e la conectività dei parti di vegetazione, dei boschi, nel paisaggio. Un professor holandese llamado Thomas van der Hammen ha proposto il concepto della struttura di sostegno ecològico della nazione per studiare tutta la nazione colombiana con due componenti. La struttura ecologica principale del paisaggio più la infrastruttura ecologica. E la struttura del paisaggio sono tutti la foresta, ma la infrastruttura ecologica ma la infrastruttura ecologica Thomas van der Hammen ha detto che era la vegetazione all'interno del agroecosistema però non più, non più, non più, no dice más. E, entonces, eh, eh, los ecologos del paisaggio hanno diversi proposti per studiare queste relazioni con distintos tipi di matrize, no? Matrize con trampolini, questo è un bosque, questo è un altro bosque, e questi sono remanenti di bosque. E questa matrize permette che se salte alcune specie al jumping, jumping, e questo sono finca o hacienda agrícolas, vero? Questa è una matrize con corredor biologico o corredor che permette il transporte e la comunicazione entre parches. Questa è una matrize di alta calidad che permette il movimento di molte specie e sono matrize di café tradizionale o di cacao che è multi estratos in Colombia, ma questa è una matrize uniforme di bassa qualità perché hai specie che non possono moverse di questo bosque perché può morire di infarto conoscere ejempli di questo in ialli orientali in Colombia e questo è un paese un paese di mosaico. Quindi la terza parte della mia presentazione è la struttura agroecologica principale del agroecosistema maggiore perché già la complessità ambientale degli agroecosistemi abbiamo definito la struttura agroecologica principale come la configurazione o la disposizione espaciale interna ed externa della agro biodiversità è un indice di agrobiodiversità dell'agroecosistema maggiore e la connettività spaziale tra i suoni diversi settori macchie corridoi di vegetazione o sistemi produttivi sono agroecosistemi minori tra di loro e con il paesaggio circostante ma storicamente costruito regolato da variabile culturali questo è molto importante in la definizione la regolazione cultural compleja è dire simbolica economica politica tecnologica e quindi questa struttura è un esempio di una finca con cercasi vivi mucha vegetazione poli cultivos cuerpos di agua sistema silvopastoril e questa altra finca che solamente tiene un árbol il árbol che abbiamo una diapositiva della rivoluzione verde è una monocultura e una sola pradera quindi questa fattoria ha più grande estrutura che cuesta che fattoria e podemos hacer relazioni espaciali di finca con distinta struttura agroecologica principal con parches con parches o meno conectados e la finca o meno conectada nel paisaje è una matriz di agroecosistemi non strutturati in una regione della colombia e pueden ver la prima factoria sin se suono árbol no tiene estrutura però la seconda tampocco tiene estrutura la tercera factoria no tiene e la cuarta este tampocco un árbol aislado e la quinta tampocco es un paisaje sin estructura agroecologica ma cuesta cuesta paisaggio tiene estrutura sviluppata sviluppata y tiene pueden ver corridori parches de vegetación muchas mas interrelaciones e este otro esempio non strutturate bestiame agroecosistema matrix in la pianura orientale de la colombia no hay relaciones no hay estructura e e el agroecosistema puede cambiar e en función de adaptamenti e disturbi no en términos de resilienza resilienza e allora no podemos considerar la SAP come estrutura dissipativa e un aditamento teórico teórico que viene de la propuesta de Ilya Prigogine que es un premio nobel de la química molto conocido que tiene la teoría de la estrutura dissipativa que es esto Bernard hizo un experimento che muestra che il liquido caldo crea gradiente di temperatura con l'ambiente quando il sistema era sulbordo del caos observa la formazione di hexagoni come questa hexagoni crea la idea della estrutura dissipativa come nuova estrutura che si mantengono energetico del disturbo allora noi pensiamo che la SAP può essere omologato a una struttura dissipativa che dissipa il disturbo o la onda in termini culturali in base alla sua agro biodiversità questo esempio mostra esempio ficticio scusami manca manca l'investigazione conjunta Italia Colombia esempio ficticio due asciende agricole con SAP diverso in partenza francoforte in Alemania questa seguramente sicuramente ha più resilienza che questa fattoria Hiciamo una pubblicazione che che conoscono possibilmente e allora come viene misurato e interpretato la SAP è una difficoltà una difficoltà è che nei paisaggi non si vedono agroecosistemi maggiore non si vedono io non posso sapere se questo è una fattoria o è questo non si sape perché il limite è artificial quindi devi parli vedere questo è una interpretazione del paisaggio hecho un biologo in la zona cafetera del del quindio di colombia che muestra cafetali e boschi però si poniamo la 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 informazione catastral, già possiamo guardare gli agroecosistemi, perché sono le finti, le fattorie individuale. Ci sono due tipi di valutazione della SAP. La valutazione di Tagliata, che facciamo con gli studenti di doctorato, di maestria, con molta profondità. Però c'è una valutazione rapida con agricoltori andando per la finca, meno precisa. Il l'indice, il attributo, attributi del sistema da misurare è l'agrobiodiversità. La dimensione ecosistema culturale. Criteri 5 ecosistemici, 5 culturali, con molti indicatori, che sono lo strumento quantitativo o semi-quantitativo utilizzato per valutare i criteri. In questa valutazione della struttura agroecologica principale, noi utilizziamo cinque criteri ecosistemici ecosistemici. Il collegamento con la principale struttura ecologica del paesaggio, il primo, più l'estensione dei connettori esterni, restrizioni viventi perimetrali e su diversificazioni. Anche l'estensione dei connettori interni è la diversificazione. Podríamos finalizzare lì se fossero biologi della conservazione, però l'agroecologia e il pensamento ambientale dice che è necessario incluire la cultura. Allora utilizziamo altri cinque indicadores culturali. usi del suolo all'interno della hacienda agricola perché il uso del suolo di suolo depende del poder economico, della educación, della tecnologia, di muchas cose culturali. La pratiche di gestione ecologica o convenzionali. La pratiche di conservazione del suolo, dell'acqua e della biodiversità, la consapevolezza, percezione, conoscenza di biodiversità e la capacità di azione, di costruire la struttura. e allora tenemos un indice con dieci criteri, dieci criteri, 5 ecosistemi ecosistemicos e 5 culturali. Quali sono? Il collegamento con la principale struttura ecologica del paesaggio che valutare la distanza e le relazioni dell'azienda con i vicini frammenti di vegetazione naturali, principalmente coperture forestali e corpi di acqua. L'estensione, determinare la percentuale dell'estensione lineare di restensioni viventi presenti nel perimetro e l'estensione del corretore interno è la stessa cosa ma internamente e la diversificazione, valutare la diversità delle restensioni o degli siepi viventi situati nel perimetro dell'agroecosistema maggiore e la diversificazione di conditori interni valuta la diversità delle restensioni abitative interne. Uso di suoli, distribuzione percentuale delle diverse coperture dell'uso del suolo all'interno dell'agroecosistema, le pratiche ecologiche o convenzionali del sistema di produzione e le pratiche di conservazione del suolo e conoscere il grado di chiarezza consensuale e consapevolezza del produttore riguardo alla agrobiodiversità e finalmente la capacità e la possibilità degli agricoltori di stabilire mantenere o migliorare il proprio sape con una tabela di interpretazione di uno a cento pienamente sviluppato o nessuna struttura la proposta inicial per mesurare la conectividad del agroecosistema maggiore è un po' d'historia un po' d'historia per mirar che hemos venido incorporando e mejorando il indice glinisi inicialmente pensamos che 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 sia una medicione di di del primo criterio del indicador pensamos che che sia il quadro rollo è la factoria non c'è con il paisaggio e poco a poco la conexione può aumentare 25% 50% 62% 75% o 100% de conexione ma eh mhm los inicios usabamos una tabela de conexione con la estructura del paisaggio eh decíamos que había alta conectividad o baja conectividad con un porcentaje ma esto no era bueno no era bueno perché non utilizzavamo le métricas del paisaggio e io o un studiante che mi ha detto ah profesor Tomà va utiliciamo le métricas del paisaggio io io ho ha aceptato che tiene razón e mi studiante me propuso utilizzare un círculo di un kilómetro di radio para incluir los parches de vegetazione en el índice y lo hicimos inicialmente están los parches de vegetazione la tesis de mi studiante pero hemos avanzado un poco come viene misurata las conexiones de la hacienda agrícola ora con la estructura ecológica del paisaggio yo digo con mucho humor es fácil es fácil es un poco de humor pero viene así y debemos utilizare imágenes de google earth e informaciones catastrales de propietá en la Colombia esto es difícil el catastro en Colombia está actualizado solamente en un 60% del país tenemos problemas para tener los mapas catastrales después diseña un cerchio partiendo del centro de la factoria la factoría al interno del cerchio identificare el uso del suelo utilizando la metodología muy conocida de Corinne Lankover determina la distancia entre copertura y especies d'acqua del centro de la factoría determina la densidad de uso y copertura y valutare la distancia y la densidad relativa con la tabela 1 pero antes prima de mostrar la tabela 1 quiero mostrar un ejemplo de lo que hacemos esta cuesta una factoría el lado más largo el radio dos veces y hacemos el círculo es arbitrario se puede cambiar si pero creemos que necesitamos más información para tomar decisiones sobre cambiarlo o no es una proporción es un área proporcional a todas las factorías factoría perché usare un cerchio la sfida di stabilire un área di influenza del ambiente nella factoría área di influenza diversa del cerchio potrebelo generare problemi di proporcionalità o misurazione se tengo un cuadrado è difficile perché los lados sono diferentes e va a ser más difficili le comparazioni e se utilizo un círculo sino la forma del terreno vamos a tener problemas de medidas por eso utilizamos el círculo pero la distancia della conectività è un altro problema da risolvere perché questa è una finca può tener distancias di un impolinate distanza determinada di otro impolinate o di altre specie una aves pájaros birds nèmico natural è differente che viene qui o altro che viene e se esconde aca otro nèmico natural o puedo tener un recolatore del acqua en distintas distancias e quando dibuja un círculo vai tener problemi di relazioni di conectività la pregunta la domanda è qual è la distanza mínima o máxima a la qual una copertura interessa un agroecosistema limítrofo è una buona domanda perché non se sabe nessuno lo conoce perché possiamo tener per esempio questa distanza in funzione del tipo di cultura in funzione della presenza di fiori in funzione della possibilità di rifiuto e densità della copertura in funzione del tipo di specie vegetale o del tipo di herbivoro a controlar però anche del area del fragmento anche della densità del fragmento e anche della forma del fragmento abbiamo molti difficoltà e la italia il professor massimo me ha detto che io conoscere un poco poco no mucho però ustedes hanno distinti equipamenti viaggi caratteri autopista fabri che è differente a questa situazione quindi abbiamo altre variabili per discutire anche del tipo di gestione ecologica o convenzional perché tu puedes tener un vecino che utilizza plagicidas e afecta tua hacienda allora proponiamo distanza relativa proporcional a la dimensione di ogni factoria a seconda del ratio del cerchio ora sì andiamo alla tabella 1 e la tabella 1 è questa non è 5 tabella 1 descrizione degli indicatori distanza di frammenti di evitazione dal centro dell'azienda agricola e distanza dei corpi idrici dal centro dell'azienda e densità di frammenti e dei corpi idrici e abbiamo una percentuale della media tra i frammenti di vegetazione presente nel area di influenza etc. una manera di interpretare e dopo hacemos il promedio di distanza di dei fragmenti e dei corpi di agua e della densità e abbiamo la conectividad della finca con il paisaggio esempio fictizio di due aziende agricole con conexioni diverse a la struttura ecológica principale del paisaggio una finca sin conexione e otra muy conectada e questo esempio si sono real la realtà e la conectività con la struttura ecológica principale del paisaggio della factoria agricola el naranjal e l'alcanzia qui ad estra notare la differenza di espechi d'acqua tra le due factoria qui ha un rio caudaloso la pianura la llanura oriental de colombia e aquí no pero esta tiene más estructura más conexión que esta finca y si usas si asciende agricole bichini para afinar el análisis sería más más complicado pero mejor porque introducimos el mundo cultural yo puedo tener la factoría rodeada de multi altri factoría o pochi pocas factorías con tipos de propietarios vecinos diferentes que pueden ayudarme o no a lo que pasa al interno de mi finca porque este vecino puede utilizar plagicidas plagicidas pero este vecino puede ayudar a la conservación entonces ese tipo de análisis tenemos que hacerlos en el futuro pero también podemos incluir otros elementos de análisis carreteras autopistas etc la extension del corrector externo es esta lo medimos como perímetros continuos o discontinuos ustedes ven aquí y la diversificación también porque este es unos árboles que no 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 tienen ningún papel en esta finca no son árboles de pinos que en el trópico no se comportan muy bien entonces nosotros utilizamos dos indicadores la riqueza y la estratificación y con unas tablas medimos la diversidad riqueza estratificación en el promedio este es un ejemplo de la finca cortijo que mostra la diversidad del sur conector externi en el límite setentrional esto es un bosque de galería muy importante para esta finca porque genera muchas relaciones y estos son conectores externos internos de cercas de alambre cercas de alambre que no generan diversidad ni interacciones estos son los conectores internos de la factoría San Luis bosque conectores y este otro otro ejemplo de conectividad interna de la hacienda agrícola al milenio en los llanos orientales de Colombia llanos orientales bosques de galería muy ricos muy diversos muy conectados muy conectados bueno esta es la diversificación hacemos un promedio de la riqueza y tenemos una manera de calcular esta es una una imagen de un de Clara Nichols que muestra la diversidad de plantas para el manejo ecológico de plagas en agroecosistemas de California ellos trabajan en viticultura y yo creo que hay buena información del profesor Miguel Altieri y Clara Nichols sobre relaciones de insectos y bancos bancos de fiori para cultivos de uva de vino creo que hay buena buena información bueno uso de la tierra también lo medimos fíjense esto es una finca con un uso de la tierra diferente a estas otras muy diferente y lo medimos en términos de coberturas que favorevole a la agrobiodiversidad en piena cobertura si el 100% de la hacienda es utilizado con policultura o cobertura arbórea en silvopastorali agroforestali o altos sistemas y es favorevole a la agrobiodiversidad y hacemos mediciones también uso un interno solo de lefactoría refugio a sinestra y el recuerdo son dos ejemplos ¿verdad? en la práctica de gestión agrícola práctica de gestión del bestiame el criterio final de la práctica de gestión agrícola viene valutada mediante indicatóri de media semi preparación del suolo fertilizante gestión fitosanitaria y esto es un ejemplo de valutación del indicatóri semi si las semillas son propias ecologicas ancestrales diversas y produtos localmente conservados con procedimientos procedimenti ecologici 10 si semilla transgénica 0 0 o otro tipo de semilla poca valoración este es el profesor miguel altieri y para las prácticas de conservación y de suelo del agua y de la biodiversidad aunque no habíamos forma de mesurare aunque la percepción y la conciencia con anquetas encuestas trabajo directo técnicas cualitativas para también valorar la conciencia ambiental y el conocimiento de la agrobiodiversidad y finalmente la capacità de acciones la mesuramos la medimos por la capacità económica financiaria la capacità logística la capacità de gestione y el acceso a asistencia técnica agroecológica non altra agroecológica entonces existono relaciones tra saab y gestione de la malatia si no habíamos ciertas experiencias con mis estudiantes hicimos estudios de SAP de factoría agrícola de la urinonia colombiana con distintos resultados este grupo de haciendas tiene una muy buena estructura y estas no hicimos relaciones con productividad y SAP en estos agroecosistemas y encontramos muy buenas relaciones entre la estructura agroecológica principal y la productividad ma ma aunque encontramos correlaciones trae número de controles fitosanitari en 18 agroecosistemas con muy buenos muy buena correlación índices con muy buena correlación y también un trabajo reciente sobre la apropiación humana de la producción primaria neta que es un concepto que relaciona la potencia vegetación y la ascenza de actividad humana la vegetación ancestral anterior la potencia con la vegetación actual con relitis de vegetación la cultura y la pratería etc. que es la productividad primaria neta actual y esta diferencia es la variación de la productividad dovuta a la actividad humana y esta es la apropiación de la productividad primaria neta existen relaciones tra SAP y apropiación de la producción primaria neta si 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 hicimos una investigación una ricerca con la estudiante que encontró una correlación de muy alta punto 8 8 una alta correlación y también alta correlación con los usos di suoli con la diversidad de conectores internos y con la percepción la conciencia y el conocimiento de los agricultores altas correlaciones pero bajas correlaciones con la diversidad del conector externo y con la conexión con la estructura del paisaje por razones que se entienden muy bien pero también podemos pasar del agroecosistema a la matriz de agroecosistemas porque los paisajes cambian cuando colocamos las fincas pueden ser paisajes con dos grandes latifundios o paisajes con con muchas fincas como aparece acá en la diapositiva o con muchas 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 fincas y eso hace que tengamos que cambiar la manera de hacer el estudio de la aplicación y la estructura agroecológica su piccola escala es diferente manca per estudiare manca per estudiare porque podemos cambiar los indicadores incluyendo otros indicadores de agua o conectores de vegetación pero manca per estudiare por ejemplo este es un trabajo que hicimos para un instituto gubernamental hablando de la conectividad de agroecosistema y ecosistema porque podemos agrupar el paisaje de manera diferente con una matriz de agroecosistema sensasab o o hacemos una delimitación de agroecosistemas con sap moderato o esta parte de agroecosistemas con una sap forte forte pero debemos estudiar porque la introducción de las fincas la introducción de las fincas con los mapas catastrales con el mapa catastral cambia la lectura del paisaje cambia la lectura que hace la agroecología en relación con la lectura de la ecología del paisaje podemos tener una finca completamente rodeada por una carretera y eso genera influencias dentro de la finca la sap es una característica distintiva funcional e naturale de agroecosistema y mayor que soporta studi comparativi que es relativo a la conectividad que puede usarse como criterio taxonómico y puede ser útil en la planificación potencial e entonces allora no podemos trabajar en un futuro para planificar paisajes haciendo una sap potencial por esempio introduciendo mayor cantidad de conexiones en un paisaje planificando el paisaje no hipoteamo hacer esto a un nivel de la finca más conectores más bosques y más planificación al interno de la finca de la factoría altri studi in svilupo la sap en memoria biocultural estamos trabajando con comunidades indígenas en colombia sap es sicureza alimentare estamos estudiando con campesinos en los andes colombianos la sap es sistemas agroforestales también en las zonas más cálidas de colombia y estamos haciendo trabajos de sap y variabilidad climática porque entre más diversidad entre más resiliencia mejor se soporta la variabilidad climática este es un pequeño ejemplo ya estoy casi terminando de sap fertilidad del suelo y actividad de coleoteri neleacien agrícola res natur estamos estudiando la manera en que los coleoteros coleoteri trabajan las las masas fecales introduciendo introduciendo materia orgánica en el suelo trasformando las propiedades del suelo entonces tenemos un estudiante de doctorado en agroecología che studia la relazione tra la sap pratiche digestione della agro biodiversità e aspecti culturali del produttore con diversi funcione ecológica negli escarabajo estercorari negli agroecosistema de alevamento intensivo en la colombia e alora ella tiene ya hemos hecho trabajo de los criterios ecosistémicos hemos valorado la estructura agroecológica principal y también los criterios culturales ya sabemos que son sistemas hidropastoriles con aráquida forragio con suplemento pererba de pante con rotaciones de paddock con el uso moderato de ivermertinas y ella ha trabajado experimentos de 320 mas fecali con experimentos con varios tratamientos de suolio suoto la materia la masa fecali y suoli suoto la dos controles pero lo interesante es que hemos encontrado aumentos de ph de carbón orgánico de nitrógeno total de materia orgánica de risobium azotobacter más en las en las materias fecali bajos y la la sociedad civil perdón la sociedad civil también ha trabajado sin proponerse esto es una factoria en el año 97 y esta es la misma factoria en el año 2007 trabajado por agricultores sin conocer la estructura agroecológica ISAP es una válida aproximación y cuantitativa pero es primero en un único índice ambiental una cualidad de agroecosistémico con contenido ecosistémico agrobiodiversidad y cultural pero debemos afinar el criterio conducir estudios comparativos ojalá con Italia ojalá con Chiara con los estudiantes del profesor Máximo y calcular muchas SAP potenciales y hacer aplicaciones en muchos otros campos en historia ambiental gestión cambiamento climático en fin esta es la última diapositiva hablada mucho la SAP es un nuevo concepto con molteplicas aplicaciones científicas en agroecología tecnológicas en la gestión de la azienda agricola socioeconómica y politica en la planificación territoriale que requiere más recerca e difusión gracias mucho profesor Máximo gracias Tomás por lo esfuerzo que has hecho de hablar en gran parte en italiano y te agradezio porque no es fácil cuando se trata de también de en otra lengua el trabajo científico y también abitudini pensamientos no es fácil y te agradezco que te 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 te